La fabbrica è tale denunce che la vuole chiusa, la vuole chiusa per la fabbrica, con i tuoi, con i tuoi lavoratori perché non è più concepibile, non è più possibile accettare malattie per i nostri figli. In questa piazza oggi sono bene accetti tutte le persone che lottano per il diritto alla salute. Per avere diritto alla salute quella fabbrica non ha alternative, deve essere chiusa e riconvertita senza nessuna perdita di posto di lavoro, questo per creare un futuro diverso per i nostri figli. E oggi dobbiamo ringraziare le norme che sono e prigono i loro figli, dobbiamo ringraziare anche chi ha portato i propri figli e non ha più pesciuti anguri, è solidarietà perché è un problema di tutta Tarazzo e non è un problema soltanto dei campionati, è un futuro paziente. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille.